Quattro assoluzioni, otto pene rideterminate e soltanto due conferme. La Corte d'Appello di Milano ha ridimensionato la sentenza emessa un anno fa dal GUP del Tribunale di Milano nel processo con il rito abbreviato scaturito dall'inchiesta che avrebbe dovuto far luce sulle presunte infiltrazioni delle famiglie di Indranghe, Tarena e Nicosia di Isola Caporizzuto nei subappalti delle costruzioni ferroviarie e su un presunto regime di monopolio che prevedeva la spartizione delle commesse da parte dei colossi del settore che gestiscono i lavori di manutenzione della rete ferroviaria italiana. Il sostituto procuratore generale Angelo Renna aveva chiesto 14 condanne, l'aggravante mafiosa regge soltanto per i quattro fratelli a Roisio. Sono stati assolti da tutti i reati loro contestati Antonella Petrocca in primo grado condannata a tre anni e quattro mesi, Roberto Rillo un anno e quattro mesi, Francesco Ferraro un anno e nove mesi e Luigi Taverna un anno e quattro mesi. Numerosi reati sono infine caduti per non aver commesso il fatto e per essere stati ritenuti partecipi all'associazione a delinquere sono stati condannati appena determinate a un anno e otto mesi, ciascuno Alfonso Aloisio che in primo grado ebbe quattro anni e due mesi, Antonio Aloisio sei anni e sei mesi e ne rideterminate con l'esclusione dell'aggravante mafiosa a due anni e sei mesi per Gianluigi Petrocca sei anni, due anni e quattro mesi per Angelo Mancuso tre anni e tre anni e due mesi per Domenico Rillo cinque anni e sei mesi, cinque anni e quattro mesi per Leonardo Villirillo sei anni e quattro mesi aveva avuto precedentemente e dieci mesi per Nicola Pittella un anno e quattro mesi. Un anno e quattro mesi per Francesco Catizzone, poi pene confermate per Francesco Aloiso già condannato a quattro anni e otto mesi e Morizio Aloiso al quale furono combinati sette anni. Le accuse erano a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e bancalotta con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa perché con un sistema di incassi in nero società riconducibili ai clan attive tra il Varesotto e Isola Caporizzuto avrebbero sostenuto affiliati detenuti e le loro famiglie. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Roberto Coscia, Pino Napoli, Mario Nigro, Vincenzo Sorgiovanni, Salvatore Staiano, Luigi Villirilli, Giuseppe Marvasi del Foro di Locri e Anna Marziano del Foro di Catanzaro.